Ciao amici, ci troviamo a Carinano. Questa è la villa comunale, ristrutturata da poco. Belle siepi, belle giostre nuove, con i cancelli di tutti i colori. Ecco, questo è l'esterno, rinnovato e colorato, con i colori estivi. Ma poi, all'esterno troviamo anche questo, habitat per drogati e alcolisti. Questo posto emana terrore, luoghi abbandonati. Per nulla curato. Questo è quello che rimane del centro sociale polivalente. Un ben nulla. E i servizi igienici sanitari? Eccoli qua. Nuovi, rinnovati. Un saluto da Anonymous.